Ciao a tutti, oggi parlo del Buco, il film che è uscito a poco su Netflix e diverse persone mi hanno chiesto cosa ne pensassi, quindi l'ho visto, vi ringrazio anche appunto per la curiosità e nulla, adesso proverò a fare per quel che posso un'analisi. La trama è molto semplice, praticamente immaginatevi una prigione verticale divisa per livelli, tanti livelli, per ogni livello ci sono due persone e ogni 24 ore dal punto più alto viene fatto scendere una piattaforma che attraversa questo buco, che attraversa tutti i vari livelli, e su questa piattaforma c'è una grande quantità di cibo che man mano che scende ovviamente le persone mangiano e quindi quelli che sono più in alto possono mangiare più di quelli che sono più in basso, man mano che scende addirittura quelli sotto forse ricevono poco o addirittura niente. E praticamente ogni mese che passa le persone che sono sopravvissute vengono spostate a un livello diverso, che può essere o più alto o più basso. Dunque, quindi il film fin da subito parla del esplicito nel voler affrontare il discorso della disuguaglianza sociale. Un film come questo, però, non può essere estrapolato nel giudizio dal momento che stiamo vivendo. Infatti sta ricevendo grande attenzione e soprattutto grande gradimento da parte dello spettatore, degli spettatori. Questo perché? Perché, secondo me, arriva puntuale, nel senso che stiamo vivendo un momento di quarantena e di tensione, di paura, di incertezza, perché non sappiamo, ci chiediamo quantomeno, per quanto tempo le risorse, quindi il cibo, l'acqua, le risorse primarie, saranno disponibili se il coronavirus, se a casa del coronavirus sarà prolungato questo stop. Quindi, questo, fondamentalmente, è ciò che permette al film di ricevere un così alto gradimento, perché lo sentiamo che ci riguarda, ok? Però, il film dice delle cose... Diciamo, a livello di messa in scena, richiama un po' quello che aveva fatto già The Cube, che però l'aveva fatto vent'anni fa, cioè, nel senso, vent'anni fa era visionaria la cosa. Oggi è semplicemente un riprendere qualcosa di già visto, un po' cambiato, manipolato, ci sta, ma non è quello il problema più grande. Il problema più grande, adesso, poi, per carità, ci sono film, poi, se qualcuno ha visto questo film e gli è piaciuto, io lo invito a vedere Snowpiercer. Snowpiercer, se volete prenderlo su Amazon, che è Amazon Prime Video, è quello lì veramente un film bellissimo, che tratta lo stesso argomento, ma con una grande differenza. Se Snowpiercer, anche lui faceva ricorso all'uso della metafora, ma prima di tutto aveva una struttura narrativa molto solida, ok? Una storia, cioè, prima di tutto il regista si preoccupava della storia, e raccontarla bene, con coerenza, e reggeva molto bene, e solo successivamente c'era un discorso di metafora e simbolismi, quindi il film è stratificato su più livelli, nel senso che quindi c'era la storia, ok? Dopo, oltre alla storia, una volta uno ci può leggere, giustamente perché è molto presente, i significati vari che voleva passare il regista. Invece credo che un film come Il Buco abbia commesso il peccato di voler essere troppo esplicito, prima di tutto. Ci sono tanti esempi, adesso non sto a entrare perché è talmente esplicito che non c'è neanche bisogno che io stia qua probabilmente a spiegarne il significato, a partire dal vecchio col coltello, invece l'uomo idealista col libro, cioè, come dire, si poteva trovare qualcosa di più raffinato per raccortare l'importanza della ragione e della cultura di fronte invece alle barbarie causate dal più primitivo istinto di sopravvivenza. Si poteva trovare altro. Ci sono anche poi delle furbate che non ho apprezzato. Vedi per esempio il fatto che la persona anziana, appunto, siccome noi dobbiamo provare antipatia e ribrezzo per questa persona, si fa di tutto per dipingerla come una bestia. Praticamente è, infatti, mentre mangia, quando viene inquadrato, assume le espressioni, la gestualità, la voracità con cui mangia e addirittura l'aspetto del viso di una bestia. Sembra veramente cattivo e bestia quando sta mangiando. A rispetto invece dell'altro, dell'idealista, che per carità avrà anche lui dei suoi cambiamenti, ma non assume mai questi connotati. E quindi questo è un film che ha tesi, e va bene che esistano i film a tesi, però manca l'antitesi, ok? Diciamola così. Invece almeno Snowpierce, almeno, Snowpierce aveva il grande merito, anche a un certo punto, di quel carità, anche quello, un film anticapitalista come questo, aveva però il merito di portare anche la tesi opposta, ok? Poi, ovviamente, il punto di vista del regista viene fuori, nel film Snowpierce, dove ti diceva, oratoriamente, quale è il suo punto di vista, quale è la sua visione di mondo, e quale sarebbe la cosa giusta da fare, ok? Invece, un film come questo gioca molto di retorica, e anche, se vogliamo, di un certo paternalismo, che secondo me, nella lunga, può risultare fastidioso. gioca sulla retorica, ma solo da una parte. Un altro esempio, la persona anziana, che a un certo punto racconta che ha gettato il televisore giù dalla finestra, ha colpito un extracomunitario, e dice che pure, che quasi non si sente in colpa perché non doveva stare lì, questa cosa che poi non viene neanche approfondita, non aggiunge nulla dal punto di vista narrativo, non aggiunge nulla neanche dal punto di vista, se vogliamo, di quello che deve essere il discorso, perché non è necessario che lui abbia colpito un extracomunitario e che poi si accanisca nel discorso dell'extracomunitario. Poteva aver colpito tranquillamente una persona e poi, infatti, poi dal motivo per cui si ritrova a dover entrare nel buco. Ci sono quindi queste frecciatine, se vogliamo, anche ideologiche che credo che lasciano un po' il tempo che trovano. E soprattutto poi questo film mette prima il simbolismo, a un certo punto diventa anche cristologico, con simboli però, tra l'altro, piuttosto pacchiani nel loro essere così tanto espliciti. Dicevo, viene prima il simbolismo rispetto alla storia che sta raccontando, quando dovrebbe essere il contrario. Prima la storia, ok, il funzionamento della storia, il meccanismo che funziona, l'evoluzione dei personaggi, eccetera, 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 e poi la seconda lettura dei vari simboli che si vedono, che si spera che siano un po' più raffinati, che diranno, se vogliamo, anche la possibilità allo spettatore di interpretarli e di provare anche a confrontarsi col punto di vista del regista. Invece qua sembra tutto molto forzato a dover assumere la posizione ideologica del regista. E io, francamente, più passo al tempo, io preferisco chi mi racconta una storia, mi dà il suo punto di vista, ma cerca di raccontarmela per intero, e addirittura magari che mi nasce più domande che risposte. Invece questo vuole proprio fare tutto, vuole dirti qual è il problema e ti dà anche la risposta, con, come dire, tutta una serie di messaggi di interventismo. Quindi il film, teniamo conto del fatto che è di un esordiente, quindi ridimensioniamolo rispetto al fatto che è uscito in un momento molto fortunato da quello che potrebbe essere stato un marketing, non voluto, ovviamente, ma in questo caso funziona molto bene, quindi è uscito nel momento perfetto, di un regista che, dicevo, è un esordiente che avrà tutto il tempo, ovviamente, che ha una visione di mondo netta, ma che non trova il modo di usare davvero una storia, una metafora, che non sia veramente il semplice dire le cose, perché è proprio un film che è talmente esplicito che risulta, ripeto, secondo me, alla fine anche un po' fastidioso, al merito sicuramente di essere uscito su Netflix e di, quindi avrà un grande pubblico, magari di portare le persone a riflettere su certi problemi, appunto certe problematiche che affliggono il nostro mondo. Io però invito chi non l'avesse visto a vedere Snowpiercer, quello è il grande cinema, secondo me, quello è il cinema nella sua massima potenza, dal punto di vista visivo, dal punto di vista della narrazione, della regia, del, come dire, e anche dell'uso delle metafore, davvero, e soprattutto anche con le all'onestà di mettere come si dovrebbe fare le tesi, le argomentazioni morali, come si chiamano, a confronto, che qua mancano. Vabbè, insomma, credo di aver detto abbastanza, non entro nel merito di ulteriore, di Don Quixote, anche lì l'eroe combatte in vano, il fatto che i cagnamenti si producono, ma non spontaneamente è tutto, ripeto, troppo, troppo esplicito, e non è simbolismo a servizio di una storia, ma è più la storia a servizio del simbolismo. Quindi, niente, io mi auguro che voi lo vediate, comunque sia, al merito, ripeto, comunque sia, se tante persone parlano, vuol dire che è arrivato, vuol dire che sicuramente ha dei meriti. Vi invito a commentare, molto probabilmente non sarete d'accordo con quello che dico, però parliamone, perché preferisco mille volte di più i film che dividono, non so magari quanto divida questo film, piuttosto che i film invece che mettono d'accordo tutti. E se vogliamo questo però è anche uno di quei film che metterà abbastanza d'accordo tutti, più per il messaggio che per l'efficacia reale del film. Grazie a tutti, un saluto e alla prossima!